Allora, oggi faccio una cosa bellissima, che ci sono olive, stusticadenti, carote, mazzarelline, ricotta. Allora, prendete lo stusticadenti, prendete una carota, cogliete la pappe che dopo è un nasino. Infiliamo la mostra all'emmina. Prendiamo l'oliva tagliata a metà. Prendiamo un'oliva tagliata a metà. Prendiamo l'oliva tagliata a metà. Prendiamo l'oliva. Prendiamo l'oliva tagliata a metà. No! Sono bellissime! Avete visto che coca bellissima? Eh, eh che coca! Voglio diventare una coca un coca quando diventano grande Comunque, hai visto che bella? Ascoltami Non farò Unidono 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 Grazie a tutti.